Bene, molto bene, molto piacere, benvenuta, aspettavamo da tempo di incontrarci, non ho capito ancora perché non c'eravamo incontrate Non ti illudere perché non sono tutti come noi, noi siamo un po' i meglio della piazza Allora, cominciamo da nome e cognome, abbiamo un cognome che è Wurst, che ha un significato preciso Sì, Wurst ha usato un'espressione tedesca che significa non me ne importa nulla E questo è proprio il messaggio che volevo dare, perché non importa da dove vieni, qual è il tuo orientamento sessuale o qual è il colore della tua pelle Quello che conta è tu come sei Beh, voglio cambiare immediatamente il mio cognome alla nagra Esatto, in Italian you can say chi se ne frega Sì, chi se ne frega It's the same All right E Conchita invece da dove arriva? And where does Conchita come from? Oh, Conchita, I have many friends from Cuba and I ask them How do you call a sexy Latina everybody wants to go out with? And they said Conchita and I said, well that's great, I'm gonna take it And that was quite a short story È meraviglioso Ho molti amici cubani, ho chiesto quale fosse un nome adatto per una ragazza sexy Mi hanno detto Conchita Con la quale tutti vogliono uscire, tra l'altro Ed è Conchita E così ho preso questo nome Abbiamo sbagliato tutto, caro Diego, carapina In ogni caso, Conchita Wurst, molto bene In realtà arrivi da un percorso Nonostante tu sia veramente una ragazzina Già pieno di un sacco di cose You are very young, but you started out Quite a long time ago Because you did many things Lots of experiences Oh my God Yeah, I started doing drag when I was 14 So this was the moment when I decided to Do something on stage And I appeared at some casting shows At the age of 17 And you know, and it just went on and went on And I made so many experiences in this business That I learned so much Till the day that I knew How do I want to look? What do I want to say? What do I want to sing? And you know, it was really years of preparation And now it just felt I felt ready Sì, io faccio la drag queen Da quando ho 14 anni Ho cominciato a travestirmi a 14 anni E ho cominciato anche a esibirmi sul palco A 17 anni ho partecipato a dei casting E poi è andato avanti così Ho accumulato esperienze Ho imparato tantissimo In modo che a un certo punto Sono arrivata a sapere Cosa volevo esattamente fare Sono stati anni di preparazione A quello che poi sto facendo Beh, concetta chi se ne frega Che è un po' la traduzione Con Città Urz, è vero Ha partecipato a un reality Un talent Non ho ben capito Che si svolgeva all'interno Di una fabbrica dei pesce Oh my god That was That was a reality show Called The hardest jobs in the world And they invited me To be in a fish factory And back then I thought Well, that's fun Ok, why not It was quite fun But you know I really appreciate the work They're doing Because I couldn't do it Ok Sì, sì Era un reality Si chiamava The hardest jobs in the world E quindi mi hanno invitata I lavori più duri del mondo E mi hanno invitata Quindi a lavorare Proprio in questa fabbrica di pesce All'epoca Da noi l'ha fatto il principe Emanuele Sì, per dire E poi ha partecipato A un altro talento reality Che si svolgeva in Namibia Che è un posto pazzesco Che ho avuto la fortuna Di frequentare E di conoscere The Himbers And it was so beautiful They dress so beautiful In the desert And they are far away From civilization So it's so beautiful To learn from them Because they know What the real deal is all about And that was Extraordinary È stata un'esperienza straordinaria Perché queste sono persone Che vivono nel mezzo del deserto Lontane dalla civiltà E per esempio Si mettono il fango sulla pelle Per proteggersi Sì Appunto dal Sanno come resistere A certe temperature In realtà io ho conosciuto Una certa Sandrina Adesso non mi ricordo bene Come si chiamasse Di vero nome Io avevo capito Sandrina Che aveva La mia età Ne dimostrava 90 Per cui forse La Sandrina Aveva sbagliato Cosmela Aveva sbagliato terriccio Andiamo avanti E ci sentiamo Un altro pezzo Un altro pezzo Che rappresenta decisamente La tua storia Cara Concita Perché si intitola You are unstoppable E vuoi dirci qualcosa Su questa canzone? Do you like to tell us Something about You are unstoppable Because you are Actually Unstoppable Well I tried to become This was The sentence that I said The night that I won Because I wanted everybody To know That you can reach anything If you just want to And if you work Hard And you know This specific song Is really dedicated To my fans Because they are So supportive And I have so many Unbelievable examples Like they calling The Austrian radio station From Los Angeles You know American people call Austria That they should play my song For you So and this is This is just overwhelming And I'm so I'm so thankful And that's why I created a song for them La canzone si chiama You are unstoppable Quindi sei inarrestabili Io ho cercato Di essere inarrestabile Ma soprattutto Ho voluto fare questa canzone Per dire Soprattutto ai miei fan Che si può raggiungere Qualsiasi obiettivo Basta solo volerlo E impegnarsi a fondo Per raggiungerlo Sono molto grata Ai miei fan Per il loro sostegno Pensate addirittura Che ci sono dei fan In America A Los Angeles Che telefonano In Austria Le radio austriache Per dire di passare I miei pezzi Ed è qualcosa Che mi fa molto piacere E allora ce la sentiamo L'inarrestabile Con Cittawurst Radio DJ Grazie a tutti Grazie a tutti